La posizione polarizza il tutto. L'altro tema invece è quello di non dover confondere le fake news con le opinioni dissenzienti. Panfilo Gentile le chiama le opinioni sgradevoli. Io segnalo due letture che ho fatto di recente, la cappa di Percello Veneziani e la nuova censura di Alain de Benoît, ma che conia questa formula, quella dei giornalisti poliziotti, cioè di quelli che stanno lì con il ditino sempre alzato a dire questa cosa non la puoi dire perché non è politicamente corretta. Io l'ho sempre detto da giornalista in Italia, il partito più forte, ma in tutto il mondo occidentale, è il più PDC, il partito unico del politicamente corretto.